Arriva in Commissione Affari Costituzionali della Camera il nuovo testo di legge elettorale. Poco più di un terzo dei deputati, 231, saranno eletti in collegi uninominali maggioritari in cui i partiti si coalizzano, i restanti eletti in modo proporzionale in listini bloccati di quattro nomi. È questo l'impianto del Rosatellum 2.0, la cui bozza è stata illustrata ai gruppi dal relatore Emanuele Fiano. Consultazioni che lasciano sperare il relatore in un consenso significativo, ma solo se Forza Italia darà il suo placetta all'impianto. Per quanto ne sappiamo si tratta di un tentativo serio cui Forza Italia dà un primo via libera. Aspettiamo di leggere ovviamente i contenuti, di vedere il calendario, però noi pensiamo che questa nuova proposta possa essere presa in seria considerazione. Si tratta di un testo che ha per grosso modo due terzi listini proporzionali e per un terzo c'è una componente maggioritaria uninominale, quindi un compromesso anche rispetto alle nostre ipotesi, che comunque predileggevano il modello tedesco, e quindi il modello totalmente proporzionale con soglie di sbarramento. Però, visto la fine che ha fatto il modello tedesco, noi pensiamo che questo mattarellum inverso, o Fianum, o Rosatellum 2.0, come si vorrà chiamarlo, possa essere un utile compromesso. Bocciatura secca dal Movimento 5 Stelle che ha disertato l'incontro con il relatore Fiano, sostenendo che il cosiddetto Rosatellum 2.0 è un anti-5 stellum, visto che introduce le coalizioni a cui i pentastellati si sono da sempre opposti. La posizione è chiara, non sprechiamo tempo con chi sta cercando di scrivere la terza legge elettorale incostituzionale dopo il Porcellum e l'Italicum, tra l'altro facendolo per danneggiare chi? Il Movimento 5 Stelle, noi non perdiamo tempo, è incostituzionale, punto e basta. Una bocciatura totale giunta anche da MDP, con Pierluigi Bersani che chiede di rimanere sul proporzionale. Il capogruppo d'Emma la Camera, Ettore Rosato, auspica una coalizione, non solo con l'ex sindaco di Milano, ma con tutta MDP, che però con il PD a trazione renziana non ha intenzione di allearsi. Intanto vorremmo vedere le carte, perché siamo ancora alle veline passate sui giornali. Mi sembra evidente una cosa, c'è un desiderio irresistibile da parte del Partito Democratico, di Forza Italia e delle altre organizzazioni politiche di nominare i deputati. Con questa legge avremo ancora una volta 700 parlamentari su mille nominati dalle segreterie dei partiti. In più, dopo tanta retorica, bisogna che i cittadini sappiano chi vince la sera e le elezioni, si passa a comunque vada sarà un successo. Forse sarebbe meglio porsi il tema anche della governabilità. Nel centro-destra la Lega ha dato il consenso, mentre Giorgia Meloni ha stroncato il testo Mi fa schifo. Il motivo, ha spiegato la Russa, è che nella parte proporzionale i deputati verranno eletti i listini bloccati di quattro nomi, come chiede Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia vuole le preferenze. È assolutamente necessario e indispensabile che il Parlamento si dia al più presto una nuova legge elettorale. Il metodo che si sta seguendo lo condividiamo, il coinvolgimento della maggioranza e il confronto con l'opposizione. Siamo d'accordo che da una parte si debba garantire la governabilità e dall'altra si debba garantire che i cittadini possano scegliere il proprio deputato. Il metodo dei collegi è uno di questi. È l'ultimo tentativo possibile, avverte il vice segretario DEM Maurizio Martina. Se l'intesa tra tutti i partiti reggerà, il testo passerà in commissione, anche se più di una voce solleva timori che in aula possano riproporsi problemi sui numerosi voti segreti. In attesa che il testo passi alla Camera, il PD intanto presenta il Rosatellum 2.0 anche in Senato per testare l'orientamento dei gruppi anche a Palazzo Madama. Grazie.